San Giovanni non dimentica, San Giovanni ancora ricorda tre personaggi, tre persone che tanto hanno dato per il calcio, ma non solo, per l'intera comunità, a cominciare proprio da suo padre. Sì, è stata un'iniziativa che ha fatto veramente tanto piacere a tutti noi di famiglia. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale e ci tengo anche magari, di solito in queste cose, in parte poi noi ereditiamo quello che viene ricordato. Mentre invece, conoscendo il babbo, penso che avrebbe, se avessi avuto modo di esserci, la prima cosa è che avrebbe ringraziato tutti quelli con cui lui ha avuto a che fare, che sono state tantissime persone, giocatori, dirigenti, anche lo spogliatoio, chiunque, che hanno avuto insieme a lui la forza, anche fisica voglio dire, di mandare avanti per tanti anni una società che è stata molto impegnativa. Ci siamo arrivati tutti insieme, ieri ragazzino, ci siamo arrivati tutti insieme, tante soddisfazioni, è stato bello, è stato bellissimo ricordarlo così. Grazie.